Ben trovati con l'informazione di Napoli News, apriamo il giornale parlando di cronaca. In 40 anni non è stato fatto un solo passo in avanti per redigere un piano di evacuazione dei campi flegrei a giornate plausibile. Ieri il governo ha deciso che bisogna farlo in due mesi e ha stanziato 52 milioni di euro per una mappatura del rischio e la realizzazione di una struttura di supporto. Fondi che andranno a quei comuni che hanno totalmente abbandonato il problema e che oggi esultano pur ballando sulla bocca di un vulcano che se decidesse di esplodere raderebbe al solo metà del Mediterraneo. Il fenomeno del bradisismo nei campi flegrei ha ripreso vigore negli ultimi due anni con continue scosse che da quest'estate tengono in apprezzione la popolazione, con esperti o presunti tali che quotidianamente si affannano a disegnare scenari possibili ma che non si possono assolutamente prevedere. La parola d'ordine è monitoraggio, l'osservatore vesuviano tiene sotto controllo l'area con l'analisi minuto per minuto dei parametri legati alla composizione dei gas che fuoriescono dalla solfatara e la distanza del magma dal suolo. Finché galleggia a 6 km di profondità non c'è rischio di eruzione imminente, cosa diversa per i terremoti superficiali tipici del bradisismo che rischiano di compromettere abitazioni ed edifici pubblici oltre a condizionare psicologicamente chiunque abiti nell'area. Tornando al decreto del governo è prevista una struttura di supporto dedicata e centralizzata nel Dipartimento della Protezione Civile e un coordinamento strettissimo con Prefettura, Regione Campania, Città Metropolitana e Comuni interessati. Le amministrazioni potranno avvalersi anche delle professionalità e delle tecnologie del Consiglio Superiore, dei lavori pubblici ma anche del provveditorato interregionale alle opere pubbliche Campania, Molise, Puglia e Basilicata e degli ordini professionali per le figure ad elevato skill operativo. Queste dunque le linee principali del decreto Campi Flegrei approvato ieri in Consiglio dei Ministri presieduto dal Vicepremier Antonio Tajani sul proposto del Ministro Nello Musumeci e da oggi comincia la corsa contro il tempo. Il gonfalone del Comune di Napoli, simbolo del popolo partenopeo, è stato insegnato della Croce d'Oro al merito dell'Arma dei Carabinieri, il massimo riconoscimento della bene merita in occasione dell'anniversario degli 80 anni delle quattro giornate di Napoli. In piazza del plebiscito la cerimonia alla presenza del Comandante Generale di Corpo d'Armata, dell'Arma dei Carabinieri Teo Luzzi e del Sindaco di Napoli Gaetano Manfredi. Il conferimento è un segno di gratitudine e riconoscimento per il contributo della città alla storia dell'Italia e alla difesa dei valori di libertà e democrazia. Questo è un grande patrimonio comune, noi siamo molto felici che oggi si ricordino le quattro giornate negli 80 anni con questa cerimonia che rimette Napoli sempre al centro dei valori democratici e repubblicani. In tanti tra cittadini e turisti hanno assistito stamane alla parata dei mezzi e dei reparti dell'arma che hanno reso omaggio al coraggio dei napoletani che furono i primi a liberarsi dal gioco nazifascista. Anche alcuni carabinieri con intere caserme in alcuni rioni e quartieri durante le quattro giornate hanno partecipato alla resistenza, come si legge sui brogliacci ritrovati dagli storiografi dell'arma. Il generale di corpo d'armata dell'arma dei carabinieri Teo Luzzi ha i nostri microfoni precisa. È una proposta che ha fatto il comando generale, il ministro della difesa, che ha ben accettato ed esprime l'abbraccio dei carabinieri a città di Napoli partendo ovviamente dagli 80 anni delle quattro giornate di Napoli. Per noi è un momento importante, volevamo ricordarlo perché poi lo spirito di quelle quattro giornate ancora lo troviamo nei rapporti con i napoletani in questi giorni. Al grido di Salviamo il pianeta hanno sfilato per le strade di Napoli portando con sé striscioni, musiche e cartelloni colorati di verde. Sono i giovani attivisti del movimento Fridays for Future che partiti da Piazza Garibaldi hanno manifestato a favore del clima. In tessa al corteo, composto da circa 500 persone, campeggiava un grande striscione con una scritta tutta napoletana «Stammi ennammare con tutti i pan». La manifestazione durante il tragitto si è poi fermata davanti lo scalone storico della Federico II dove i manifestanti hanno attaccato la ricerca, re a loro dire, di fare affari con le multinazionali del petrolio. Poi il torpedone è arrivato a Palazzo San Giacomo dove ha concluso la sua marcia con un sit-in davanti alla sede del comune. Ma cosa chiedono gli attivisti e gli studenti che hanno preso parte alla manifestazione? Essendo il futuro di questo paese noi siamo preoccupati per la svolta che si sta prendendo a livello climatico. Noi crediamo nel cambiamento, siamo i giovani di questo paese e come diceva Allende siamo intrinsecamente rivoluzionari. Chiediamo un futuro migliore. Oggi siamo in piazza con Ecologia Politica Network perché sentiamo l'esigenza di trovare una risposta che sia veramente radicale alla crisi climatica. Le istituzioni, le multinazionali, le grandi aziende devono pagarne perché ne sono i responsabili. Non è possibile che di questi tempi, con un mondo che crolla, i grandi non facciano niente. Bisogna prendere coscienza della situazione in cui stiamo. Quindi chiediamo il rispetto del pianeta e che il governo ci guardi, ci veda. La gente deve manifestare perché più siamo e più ci ascolteranno. Quindi speriamo lo capiscano. L'obiettivo è quello di valorizzare il patrimonio storico e naturalistico dei campi flegrei attraverso una rassegna internazionale di cinema e cross-medialità. Nel complesso borbonico del Fusaro fino all'8 ottobre si svolge FAB, il primo festival dell'archeologia di Bacoli diretto da Nicola Barile. Noi abbiamo voluto fortemente questo festival perché ci sembrava giusto che un luogo come Bacoli avesse un suo festival dedicato all'archeologia. In più, come dimostra l'affluenza delle scuole nei matinè, noi volevamo rivolgerci soprattutto al pubblico dei più giovani perché è mia convinzione che un bambino che apprezza sin da piccolo le bellezze e il patrimonio storico dell'ambiente in cui vive diventerà un cittadino migliore. L'iniziativa è organizzata da Giovanni Parisi e Giovanni Calvino per Tale Storyteller con il contributo della regione Campania e della fondazione Film Commission della regione Campania. Abbiamo creato un momento per i più giovani di avvicinamento a quella che noi chiamiamo la sorella cattiva della storia, l'archeologia. A volte sembra qualcosa di difficile da far capire ai bambini, invece attraverso questi film, alcuni addirittura a cartoni animati, hanno cominciato ad incuriosirsi di questa materia e speriamo magari tra qui a dieci anni uno di questi bambini potrebbe diventare un futuro regista o un futuro documentarista. Proiezioni nella sala dell'Ostrichina di battite di venti si alterneranno tra la panoramica terrazza e il parco gestito dal centro ittico campano, ingresso gratuito inoltre allestito in una mossa dedicata a Plinio il Vecchio all'interno della Casina Vammitelliana. Ascoltiamo Sergio Cosentini del parco borbonico del Fusaro. Sono i giovani che vanno educati al bello. Questo sito e questo comune ospita ben 25 siti archeologici, quindi il cinema sull'archeologia è certamente fondamentale per promuovere il territorio, per far crescere le nuove leve educandole al bello e noi siamo sempre pronti a questa iniziativa. Nucleo centrale di Fab è il concorso con 12 film in sezione provenienti anche da Francia, Spagna, Iran e Turchia. Due premi in palio, quello della giurie e quello del pubblico. Ai vincitori consegnato una core moderna, a volte in una pelicola cinematografica, firmata dall'artista Salvatore Scotto, fondatore insieme ai due fratelli della Scarabattola. Tra le peculiarità della rassegna c'è il focus sul mare, risorsa ambientale e culturale per Bacoli e l'attenzione al pubblico dei più giovani. 15.000 visitatori, 5.000 chili di materia prima utilizzata per realizzare 6.700 antipasti, 4.900 primi, 4.600 secondi, 3.200 pizze, 1.350 cioccolattini, tutti ovviamente a base di baccalà. Sono i numeri dell'edizione 2023 del Baccala Village, la Kermessi itinerante che, partita il 4 maggio a Nocera Superiore, ha poi toccato per tutta l'estate le principali località, da Caivano, passando per Baia Domizia, fino a San Marco Evangelista. Il baccalà ovviamente è stato il protagonista sia a tavola che nel corso delle tavole rotonde e dei dibattiti, dove esperti hanno analizzato non soltanto il suo ruolo sociale ed enogastronomico, ma anche nutrizionale. Ma il baccalà è un cibo straordinario perché ha un grande valore proteico, contiene niacina, vitamine del gruppo B, ferro, fosforo, iodio, ha pochissimo colesterolo, scarso contenuto di grassi ed è dal punto di vista proteico straordinario, quindi è un ottimo alimento. Si tratta di un cibo popolare, salutare e ancora molto amato da tutti quanti. Un tempo era il modo sicuro per poter mangiare pesce, adesso ci sono tante nuove tecniche di conservazione, però il baccalà nonostante questo è riuscito a resistere e a mantenere una propria identità attraverso tutta una serie di fantastiche ricette che ancora oggi per fortuna stanno sulle nostre tavole. Ma la stagione 2023 del Baccala Village non si conclude a Caserta, ma nel periodo che anticipa il Natale avrà un suo ultimo colpo di coda, un fuoricartellone come si suole dire, a Pignataro Maggiore come annunciato dal patron Antonio Peluso. Siamo a Pignataro Maggiore dall'8 dicembre al 12 dicembre, quindi 8, 9, 10, 11 e 12, una chiusura dell'anno, ovviamente siamo obbligati perché è finito l'anno, particolare, perché coinvolgeremo sicuramente tanti pizzaioli importanti, tanti chef importanti come li abbiamo coinvolti qua a San Marco Mancellista. Era questa l'ultima notizia del nostro videogiornale, appuntamento a domani con la nostra informazione. Arrivederci. Grazie.